Allora, sonata in fama in ora per 120 numero 1 per viola, per viola e pianoforte, Nora Romanov, che è una vecchia conoscenza del progetto Marta Argerich, nonché Lili Maischi, che è la figlia del più celebre Mischa Maischi. Qui a Lugano spesso ci sono i tre musicisti della famiglia che suonano anche insieme talvolta. C'è anche il figlio, invece, violinista, sto parlando di Sascha Maischi. Ultime accordature per la viola di Nora Romanov e poi i quattro movimenti di Brahms. Siamo pronti? 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 Pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Nora Romanov e Lili Maischi. Primo ho dimenticato di dire che anche Nora Romanov è figlia d'arte, figlia di Dora Schwarczberg. Siamo in diretta da Lugano dall'auditorio Steglio Molo della nostra radio, radio-televisione svizzera, per un concerto in diretta dal progetto Martha Argerich. Sonata in famino opera 120 numero 1, per viola e pianoforte di Johannes Brahms. Stefano Valanzuolo qualche commento da parte degli ascoltatori